E' uno spettacolo meraviglioso quello che si presenta sulle tribune dell'Agora Fitness con l'impianto che è gremito di gente, la tribuna praticamente è piena di persone ma tutta la struttura davvero si presenta con un colpo d'occhio fantastico e stanno tutti quanti aspettando l'ingresso in campo delle due formazioni che si daranno battaglia appunto per questa finalissima e sono Top Dancing e il Zappi Kipsai, le due squadre che si sono guadagnate il diritto a giocarsi questo atto finale attraverso una serie di difficoltà superate attraverso appunto le vittorie nei gironi di qualificazione e poi quarti di finale e semifinale è tutto pronto però ed ha un inizio davvero dirompente la formazione di Zappi Kipsai con questo assist di Matozzo per Valentino che dal due passi è riuscito a battere Karpiuk è stato dunque un inizio fantastico per la formazione di Zappi Kipsai Top Dancing che non è entrata in campo però con la giusta concentrazione ha concesso subito questa ripartenza velocissima ancora Zappi Kipsai però che vuole chiudere subito i giochi all'inizio doppia chance prima con Valentino e poi Matozzo bravissimo però Karpiuk che di testa fuori dalla propria area di rigore è riuscito a neutralizzare una conclusione a colpo sicuro da parte del giocatore in maglia bianca reagisce però a Top Dancing attenzione Campagna guardate che destro folgurante non lascia scampo a Cacciotti ma c'è stata la responsabilità però della difesa della squadra in maglia bianca che ha dato a Campagna questo pallone d'oro ancora Campagna che è scatenato attenzione se ne va Serpentino ubriacante da parte di Campagna che conclude di destro dopo aver fatto venire il mal di testa tutta la difesa della formazione in maglia bianca non è stato però preciso il suo destro adesso c'è Petitti che si accende all'improvviso Petitti si guarda intorno e poi decide di mettersi in proprio conclusione fulminante e Cacciotti è stato ancora una volta molto bravo a impedire a Petitti il gol del vantaggio poi siamo adesso sull'auto di sinistra con questa sventola che è stata partorita dai piedi di Matozzo parata da Karpiuk dall'altra parte poi Petitti che sembra essersi davvero acceso all'improvviso con questo destro e poi caccio di punizione adesso che viene battuto da Matozzo tiro di Matozzo che viene neutralizzato a fatica da Karpiuk siamo ormai allo scadere del primo tempo sembra ormai che le due squadre si vogliano accontentare del pareggio ma arriva il gol però di Petitti che legge con anticipo le intenzioni del difensore avversario e scaglia questo destro che non lascia scampo a Cacciotti un gol che dunque diventa pesantissimo nell'economia della partita perché porta in vantaggio la top dancing proprio praticamente all'ultimo secondo del primo tempo inizia ancora benissimo la formazione in maglia arancione che passa addirittura con il doppio vantaggio adesso con Campagna che da due passi riesce a sfruttare alla perfezione l'assist di Petitti 3 a 1 e per il Zappi Kipsai adesso diventa difficilissimo rimontare una gara dove è praticamente sotto di due reti ci prova Matozzo su punizione ma Karpiuk è in giornata di grazia ancora una volta puntuale il suo intervento e poi Valentino che colpisce una sanguinosa traversa e prezioso non riesce poi a concludere con precisione sulla pressione del difensore avversario grande chance dunque che non è stata concretizzata la formazione in maglia bianca prezioso si fa luce sull'auto di sinistra viene un po' perso dalla difesa della Top Dancing e segna il gol del 3 a 2 che riporta in carreggiata la sua squadra c'è solo un gol di differenza adesso fra Top Dancing e il Zappi Kipsai ci crede a questo punto la formazione in maglia bianca tiro da parte di Matozzo Karpiuk però neutralizza di piede ancora una perfetta chiusura di Karpiuk e poi contropiede mancano 5 minuti della formazione della Top Dancing assistiamo dunque a questo tentativo di Marco Terenzi che sembra essersi ormai esaurito e poi il cross che viene deviato in maniera davvero sfortunata da Gaetano Fiore con il tacco mette fuori gioco il portiere Cacciotti 4 a 2 e a questo punto diventa a dir poco complicata l'impresa della formazione in maglia bianca che ci prova però con questo tiro da parte di Proia mancavano soltanto due minuti al termine e la partita è tornata nuovamente in bilico ma manca pochissimo ormai ci prova fino all'ultimo la formazione di Zappi Kipsai generosamente ma arriva il treplice fischio da parte del direttore di gara che sancisce così il termine di questo match e consegna la vittoria alla formazione della Top Dancing che esulta a metà campo giustamente con grande felicità con grande gioia con grande contentezza una vittoria sofferta ma alla fine meritata ed è dunque suo il 29esimo Inge Callen grazie a tutti grazie a tutti